Salve, ho due notizie per voi, una buona e una cattiva. La notizia buona è che in Italia abbiamo una quantità immensa di risorse e tutte queste risorse ci serviranno nei prossimi anni per riuscire a mantenere una buona qualità della vita pur avendo meno beni privati. Tempo, energie, competenze, intelligenza, capacità di intraprendere, fantasia. È importante a questo punto valorizzare e investire sui beni comuni. Cosa sono i beni comuni? Sono quei beni materiali e immateriali che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti. Se ci prendiamo cura di questi beni ci conviene perché viviamo tutti meglio. La novità è che per fare tutto questo dobbiamo uscire dal guscio e questa è per così dire la cattiva notizia, ma è una cattiva notizia soltanto per i pigri e gli indifferenti, per quelli che vivono in questo paese come se fossero ospiti. In realtà la notizia è che è finito il tempo della delega, non è affatto utopia, ci sono decine, centinaia di migliaia di persone in tutta Italia che si stanno prendendo cura del loro quartiere, del verde pubblico, delle scuole, dei beni culturali, della legalità. Tutte queste persone però non sanno che tutto questo è previsto dalla Costituzione ed è legittimato dal principio di sussidiarietà. Buon lavoro a tutti.